Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nel tredicesimo episodio delle news di Farmy Simulator 17 Come vi avevo detto io oggi, sarebbero usciti delle nuove news, ma che non lo sapevo? Hmm, infatti ve l'ho anche detto Allora, ve l'ho fatto con un po' di ritardo perché ragazzi non ho avuto tempo, sono stato finora a registrare con Simo Poi è venuto anche Daniele, però purtroppo non abbiamo avuto tempo di registrare, è stato qui in dieci minuti, quindi niente Comunque ha detto che ci sarà Ora ragazzi, questo è il devblog, qui vediamo praticamente questo Fend900 Fermo, ah, qui Io l'ho letto tutto, ho preso le cose solo più importanti perché ho scritto tantissimo per non dire niente in pratica Qui dice che il tuo campo deve avere, deve essere periodicamente arato Quindi c'è una ogni tre raccolte, quindi tre ebbia, trincia, insomma quelle cose lì Penso almeno una, perché di più sicuramente non gli fa male Per rimanere fertile Puoi anche scegliere di piantare L'oil seed radices, che praticamente sarebbero la tecnica del sovescio Su un campo già arato Una volta che saranno cresciute le piante Puoi usare un coltivatore sul campo E questo aumenterà la produttività, la... come cavolo si chiama... la fertilità, scusate, ecco Della prossima pianta che andrai a seminare Un altro modo per aumentare la raccolta, quindi aumentare quello che si andrà a produrre E' usare un nuovo attrezzo, il weeder Che praticamente non sono sicuro, ma dovrebbe essere il sarchio Quindi per la sarchiatura dovrebbe... Attenzione, non ne sono sicuro Che lascia il tuo campo pulito E... si, vabbè Evita delle... le crescita delle piante Eh... su... su di esso Quindi... penso sia quello, eh Perché... non è molto chiaro Ho cercato su... su Google, ma non c'è niente Poi, qui scendiamo le immagini Eh... qui praticamente vediamo Eh... comunque un challenger Pocaromi, insomma, si vede pochissimo Quindi... la tecnica del sovescio, comunque Eh... e qui sotto abbiamo il Valtra Con queste nuove falciatrici della Lely Che mi sembrano un po' squadrate, però Che... che sta sfalciando Qui abbiamo... eh... ok Puoi... mh... nutrire le tue vacche con... eh... fieno Vabbè, dice che potresti... vabbè, lasciate un perdere Eh... usare il fieno per produrre... per... scusate Nutrire le tue vacche O creare TMR Che penso sia... eh... non lo so Sicuramente il... il mix La razione mista Sarebbe... mixi Mix... Ration... et... non so... total Mix... Ration... qualcosa del genere Eh... con i... cari miscelatori Dai a... bisogna dare agli animali l'acqua E poi bisogna anche portarli a vendere Con il micheletto Eh... comunque... poi qui finisce Dice... come vi dicevo io Tutti i venerdì Per cui anche loro lo confermano Anche se a volte non lo fanno a venerdì Non lo so Tutti i venerdì eh... prima dell'anno... del... del rilascio del videogioco Andranno a rivelare qualcosa sui nuovi veicoli e attrezzi Qui abbiamo una piccola foto che ho ingrandito qui Praticamente qui abbiamo i nuovi eh... brand che ci saranno Vedete ce ne sono davvero tanti oscurati ancora Quindi... ce ne sarà da vedere delle belle Ma praticamente cosa possiamo notare di nuovo Questo Ziegler Che io sono andato a cercare Perché non ne conoscevo una di queste qui nuove E a quanto pare fa un po' di tutto Da pettini a carri A barre falcianti Come vedete c'è... c'è un po' di tutto Vedete carellini C'è tanta roba Quindi... non... barre falcianti Insomma... Non... non so cosa... cosa... come verrà introdotto nel gioco Ecco... se magari come pettine Al posto di... magari qualche capello Magari... qualche... dov'è l'altro? Eh... mi son perso l'altro Qualche falciatrice, qualche carro Non... non lo so Poi di altro abbiamo Eh... aspettate che mi riguardo un attimo Che non vorrei perdermeli Eh... Kelsa Kelsa praticamente io... mh... non lo ho cercato Perché ne sono abbastanza sicuro Ehm... Che praticamente sono i... eh... i fari Questi... sì infatti vedete Sono i fari supplementari Queste lampade qua Ehm... io non so Verranno messe... magari Che c'è la possibilità di metterle come supplementare Al trattore Mh... no... guardate che belli Scania di mettere tutto Non... sinceramente non lo so Mh... perché il... la... Il disegnino sembra diverso Ma Kelsa non penso ce ne sia tanto Ehm... proviamo a scrivere Agri... Culture Vediamo se esce qualcosa Sì... come l'ho scritto Cioè... non esce nulla C'avevo anche guardato prima Perché mi ricordo qualche di queste immagini Quindi io non... non so... non so cosa sia Questo Kelsa Secondo me saranno i fari Boh Poi... eh... di nuovo Cosa abbiamo? Abbiamo il... mh... Vogelsang Che praticamente anche questo Sono andato a cercarlo Questo Bredal Me lo sono perso Mi sa Ehm... mi sono perso da qualche parte il Bredal Bredal, Bredal, Bredal Oh Ehm... mi sono perso il Bredal Ah Bredal eccolo qui Bredal praticamente sono... ci ho guardato Sono spandi con cime Questo tipo di spandi con cime Quindi... cioè... Sembra facciano solo spandi con cime Per cui saranno spandi con cime Insomma Poi abbiamo detto Ehm... Che abbiamo visto Ehm... Volgersang Sono... sembrano Dice pompe per liquami Ma qui vedo anche Questi... mh... rastrell... Queste cose qui insomma Ehm... Soprattutto però il sito dice Pompe per i liquami Quindi... penso sarà... Spero ci sarà una cosa con i tubi Tipo la Zonamer che c'era nel 13 Vedremo E poi abbiamo un Mosha Che praticamente questo Mosha Sarebbero ugelli Mh... Bocchettoni per i liquami Insomma Ehm... Difatti io ho cercato per un'ora Poi ho scoperto che senza questo tipo di O Non lo trovava Cioè... proprio... Vedete? Fa vedere sempre questi Quindi penso sia solo quello Basta qui non c'è altro di nuovo Adesso andremo... E comunque vedete c'è altro Quindi non si sa che cos'altro Ma ci sarà dell'altro Andiamo... Iniziamo con i mezzi Allora... Nell'ultima volta mi ero dimenticato L'Eber Che è stato messo Non ci avevo proprio pensato Per cui... Evitiamolo Bergman Hanno messo questo Repex Che è alla capacità di 34.000 litri Che andrebbe a sostituire il Carex Praticamente E qui ce l'hanno tanti nomi Ma praticamente Per farming è sempre l'autocaricante Poi qui In cappello Abbiamo Dato che non sono ancora uscite Anzi ci vado a vedere adesso Per evitare sbagli No Vedete non sono ancora uscite Su LS Infos Io da una volta all'altra Sapete la mia memoria Non mi ricordo Ma mi sembra che questo a cappello Non ci fosse Per cui C'è questo a cappello Vabbè Sono 5,9... No Mi sto cercando anche Di dare una botta A fare presto Non perdermi tanto Poi Yoskin O Joskin È stato messo Questo modulo 2 Che praticamente sarebbe una botte Per il liquame 12 metri 15.780 litri Davvero Mi sembra anche questa Davvero bella Spero ci sia Nell'animazione Qui del pescante Perché Sarebbe davvero un peccato Se non ci fosse Qui abbiamo la Karker Io ho visto le ruotine Che nel 15 Sicuramente ce l'ha Ma non ci ho mai fatto caso Ho detto Dai che forse Si può prendere a mano E spostare No Posizionabili Ce ne dovremmo fare Una ragione Sarebbe stato davvero Una bella cosa Poterla Prendere a mano E spostarla C'è Tanta roba Però Purtroppo Non si può Con te Abbiamo l'inserimento Di Di nuovo Di questi due Tank Questo è Il cassone Quello da lasciare in campo 55.000 litri E questa è la botte 30.000 A stessi identiche capacità E E nulla Poi Lely Qui E' stato introdotto Questo nuovo brand Che si sapeva E' stato il primo brand A uscire Come Farmi il simulator 17 Avrà la Lely Proprio la prima cosa Che si è saputa Le due falciatrici Che abbiamo visto Prima di là Un Un voltafieno Scusate Mi sembra Perché è un po' bianco Si sicuramente un voltafieno E un ranguinatore Qui Vabbè posso farvi vedere I dettagli Comunque Sono sempre più o meno Le stesse cose Ecco Chiudiamo qui Andiamo in Lizard O Lysard E' stato introdotto Questo rullo Non so che Che utilità Possa avere In farming Però Sicuramente Sicuramente Avremo Delle belle sorprese Da poter vedere Qui Non so perché ho aperto Metaltec Mi sono sbagliato Sicuramente Pottinger Abbiamo A parte che Questo Questo qui Non l'abbiamo mai visto Nel 13 Nel 15 Scusate Poi c'è questo Nuovo Soliti 21.300 litri E questo sarà 4 metri e 6 Qui non mi ricordo bene Se ci fosse stata questa Ma mi sembra solo Che ci fossero Queste due Per cui Forse è stata introdotta Anche questa Questo mi sembra ci fosse già Comunque Hanno introdotto Tanto Pottinger Poi Rostelmash Hanno messo Trincia Con i vari Tool Quindi L'apparato Per trinciare davanti Il pesine Per trinciare davanti Quello per far Triticale E Il pick up Perché la Torum C'era già Sottosame Scusate E' stato messo Il Fortis Quindi La serie che va da 128 a 193 cavalli Quindi Il 190 top Di gamma Cosa che Conoscete benissimo Qui dal 15 Poi Tatra E' stato messo Questo Il Phoenix Il 6x6 Quello che abbiamo Nel DLC Gold Edition Quindi Bene Perché mi piaceva davvero Quel camion Era fatto bene Anche se non è uno Scania Ce ne faremo Una ragione 80 km Finalmente Perché 66 Non si poteva sentire 462 cavalli Ok Valtra E' stato aggiunto La N Series Praticamente Sarebbe la serie Che abbiamo visto Anche Nella fact sheet Di Prima Praticamente Da 145 Con 185 cavalli Mentre quest'altro Più o meno Fa avanti 210 250 Quindi più o meno Hanno tutta La fascia E I Valtra Perché più o meno 145 Già iniziano ad essere pochini E 250 Iniziano già ad essere bei cavalli Chiudiamo qui Andiamo in Vicon Che praticamente Abbiamo questo Voltafieno Sono 6 Punto No 6 metri e basta Mi sembra 6 metri e basta Voltafieno Semplici Che abbiamo visto Anche nella fact sheet E Come ultimo Non abbiamo niente Perché io ho aperto il sito E non l'ho tirato giù Vogelnot E' stato rimesso Questo Facciamo così Almeno sono Ah Ok Perché non Era l'ultimo Ok Questo qui che è già da 15 Il solito 6 metri 180 cavalli Adesso nel 15 Ne richiedeva 220 Per cui è stato ridotto Drasticamente Di 40 cavalli E quindi Quindi niente Comunque Andate sul sito originale Trovate tutto Vedete c'è Massey Qui Verne Trovate davvero di tutto Niente Comunque Domani andate Se voi questo video Può darsi che lo vediate Magari Che è Sabato Quindi buon sabato a tutti E buon venerdì sera a tutti Per chi l'ha guardato di venerdì Andate sulla pagina DLS Infos E comunque Ci sono sicuramente Già tutte le informazioni Adesso mi fa strana Che abbiano avuto Un po' questo ritardo Forse non lo aspettavano Neanche loro E quindi E quindi niente Dai Io vi ringrazio Tantissimo Per la visione Da Dan è tutto